Una delle razze più amate di D&D è anche frutto del fanservice più spinto. Spesso quando incontrano questo termine pensiamo a corpi scolpiti, fome provocanti, ma non è sempre così. Negli anni 70, infatti, contemporaneamente all'esplosione del fenomeno D&D, vi fu anche la grande moda e il Signore dei Anelli, e tutti, davvero tutti, volevano giocare, nel loro avventura, almeno una volta, il mistico Elrond, il Mezzelfo, con i suoi poteri arcani e le sue capacità di preveggenza. In questo contesto, quindi, è inevitabile che provassero a introdurre la razza in modo coatto all'interno delle loro avventure, e questo non piaceva particolarmente a Gigax, ma dato che lo facevano tutti, sapete come si dice, se non pebattere non mi cita loro, e quindi, con terramente al suo volere, il Mezzelfo fu introdotto ufficialmente tra le razze disponibili all'interno del gioco. E voi? Qual è la razza e le vostre avventure referite, le vostre opere letterarie o film che vorreste vedere durante una partita di D&D? Patricelo sapere nei commenti.